Termine in parità 0-0 la sfida del Carrano tra Polisportiva Santa Maria Cilento e Barletta, seconda giornata del girone di ritorno. Rocazzo punta come sempre sul 4-3-3 dal primo minuto il tridente composto da catalano, maiese e tedesco. La partita diretta dal signor Collier di Gallarati comincia con qualche minuto di ritardo a causa del lancio sul rettangolo verde da parte di alcuni tifosi della Barletta di fumogeni e petardi che fanno ritardare l'inizio delle ostilità al Carrano di Santa Maria di Castellabate. La sfida vede subito i giallorossi proiettati in avanti e soprattutto catalano il più pericoloso. Prima da calcio piazzato cerca di far male alla difesa pugliese, poi il numero 10 della Polisportiva Santa Maria si accentra e con il destro trova facilmente Sapri pronta la risposta. Scorribanda di inunziante sulla sinistra il suo tiro è contrastato e deviato in calcio d'angolo. Giallorossi insidiosi su calcio piazzato con il solito catalano pallone che spiove in aria di rigore si salva la difesa della Barletta. La formazione allenata da mister Rogazzo ci prova ancora stavolta e Coulibaly a non avere la mira precisa. Il Barletta si fa vedere ma Caputo non riesce a controllare un pallone interessante di inguscio. Proteste dei Cilentani per questo intervento falloso di Lobosco su tedesco. Era già munito il numero 19. Dalla parte opposta le proteste invece degli ospiti sono per questa rete annullata. Posizione di fuorigioco. Nella ripresa il Barletta parte subito in avanti con un tentativo bloccato in due tempi da spina. Catalano prova a disegnare un'altra traiettoria pericolosa. Sapri però è bravo ad allontanare la minaccia. Maiese dai 23 metri ci prova con un tiro bloccato facilmente dall'estremo difensore della squadra pugliese. Girandola di sostituzioni il Santa Maria si affida a Salzano. Bitetto dalla parte opposta manda nella mischia schelotto. Catalano su calcio piazzato prova a sorprendere Sapri senza però riuscirci. Mentre la formazione allenata da Rogazzo si fa rivedere ancora con un siante il suo destro e bloccato ancora in due tempi dall'estremo difensore pugliese. Nella finale di gara invece è il Barletta a rendersi pericoloso. Prima con Camilleri il suo colpo di testa e sul fondo. Poi trova anche la rete del vantaggio ma è in fuorigioco. La posizione di Belladonna giusta la segnalazione del primo assistente. La squadra di Bitetto insiste sempre sulla sinistra. Tempestivo l'intervento difensivo di Brugaletta su calcio d'angolo. Poi Schelotto di testa non riesce a trovare lo specchio della porta. Al treplice fischio è 0-0. Prossimo appuntamento per i giallorossi in trasferta contro il Bitonto.